vincenzo pizzacane benvenuto ciao vince ciao ciao benvenuto vince non ti preoccupare so che stavi sentendo quello che stava dicendo questo sciocchino no imbarazzante bravo vince questi sono i procuratori veri e questo è quello che dovremmo iniziare a pensare cioè dei ragazzi come noi te vince quanti anni hai 39 ah praticamente siamo quasi coetanei vince solo che tu c'hai i capelli e io no e c'hai anche la procura mentre io c'ho una società con Manfredo allora sì c'è già le domande non parleremo di insignia ma oggi ci interessa o di d'ambrosio tra l'altro ma ci interessa parlare un pochino a 360 gradi di come un ex calciatore cosa stai condividendo manfredo questo è linkedin usi più linkedin te vince no te ne frega niente anzi perché devi ma questo è vecchissimo a parte che è vecchissimo ma io non lo uso da ma scusa che ieri stava un altro che lavora nel calcio seriamente come te mi ha detto io uso solo linkedin io non sapevo manco cos'era oggi mi ho detto farò una bella figura invece tu non usi allora ti condivido no ma non gliene frega niente in generale dei social la vince non è che non le ne frega uno è un profilo privato quindi va bene ma sono molto allora vince allora dom innanzitutto grazie di aver accettato l'invito di essere qua con noi insomma però forma dovuto parliamo un pochino nel merito della procura dei calciatori perché ti dico noi se ne ne parliamo molto 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 spesso sei dei rinnovi senza andare nel caso specifico no di uno piuttosto che dell'altro parlo anche dei tuoi colleghi però tutte le volte si fa un po passare la figura tua di procuratore come se fosse la parte cattiva no e tutte le volte che diciamo eh come si dice mena addosso ai calciatori non so come dire no cioè non che mena ma insomma che ce li ha sotto scacco mentre in realtà è come una società no che si fa tutto per il bene del calciatore del progetto calcistico che si va a fare no no io ragiono in 16 anni che faccio questo lavoro ho pensato molto giovane in 16 anni che faccio questo lavoro ho sempre pensato che noi non siamo i primi attori eh noi siamo delle comparse noi stiamo dietro i primi attori ehm è un momento che si attacca tanto il procuratore come forma di procuratore la il suo lavoro eh sinceramente io mi ci faccio risata anche perché se consideriamo che spesso a me è capitato qualche giocatore che non rientrava più nei piani di un allenatore o di una società quasi minacciato a dover lasciare lo stipendio a dover andare via allora quando si tratta società il contratto va rispettato e quando si tratta i calciatori e allora le società possono tranquillamente dirti devo portar via adesso qui non può più rimanere l'allenatore non lo vuole mi faccio mettere anche le scarpini ce ne sono tante di cose che vengono a dire un calciatore di scadenza di contratto o comunque un giocatore che non fa più parte del progetto tecnico di una squadra. Grazie Riccardo intanto per i 5 abbonamenti grazie mille Riccardo e vince proprio questo infatti perché poi tante volte uno pensa al giocatore come se fosse un'entità stratta no perché tu l'hai fatto io ho qualche calciatore che è amico ma in realtà questi qua sono dei ragazzi. No no aspetta aspettate io vengo dalla palla a nuoto io a calcio non ci ho mai giocato io giocavo a certi livelli ma a palla a nuoto. Sì no stavo dicendo quando quando tu hai un uno sportivo no allarghiamolo ancora di più che c'è però nel calcio sai è ovviamente l'aspetto economico è imparagonabile agli altri sport no quando hai un ragazzo di 20 anni che guadagna certe cifre e in un mondo dove soprattutto appunto nel mondo calcistico è difficile anche tenerlo con i piedi per terra quando capita una roba come quella che tu dicevi prima che magari è la società no che ti inizia a dire non c'è più spazio per lui che rapporto devi andare a innescare col calciatore per cercare anche di avere tatto nel video perché immagino che sia una roba che dall'oggi al domani è come se gli cambia il mondo no? Ti è capitato? Guarda no sì è capitato spesso e volentieri non esiste il tatto io vedo che col calciatore bisogna sempre dire la verità che sia brutta o bella ma va detta la verità e quando mi è capitato io ho detto le cose come stavano ho detto guarda non rientri nei piani dell'allenatore oppure non piace l'allenatore oppure la città non ti può più mantenere i casi sono stati molteplici quando è successo ho solo lavorato per portarlo altrove dove poteva essere più considerato dove poteva avere comunque una una visibilità diversa perché capita spesso che poi li mettono fuori rosa è certo quando ho io un calciatore che tutto mi aspettavo quest'anno fuorché andasse fuori rosa a 4 5 giorni alla fine del mercato senza essere neanche avvisato mi è stato comunicato neanche dalla società ma dal calciatore che l'allenatore aveva detto guarda se tu sei fuori rosa che fai? eh no no te lo chiedo 4 5 giorni per portarlo da qualche altra parte ok no però grazie intanto ricard raga magari vi ringrazio tutti dopo grazie mille intanto ricard adesso pago la bet vince ti volevo dire ma quando tu capita una situazione del genere no perché sai un conto adesso la faccio nel mio lavoro e ti chiedo di fare una come esercizio di stile di girarla nel tuo a modo tuo esempio se noi abbiamo bisogno di facciamo una marca di vestiti per cambiare quel cazzo di felpe che c'ha sempre manfredi no è un conto e se tu vai in proposta questa è una cosa utile se tu vai in proposta da un brand no un conto è scusami se il brand viene in proposta da te mi sono premessa sbagliata un conto è se tocca a te andare in proposta da un altro che tatto ci vuole ti tieni sempre cioè come funziona in una roba del genere ti tieni sempre degli spiragli perché sai dopo il coltello dalla parte del manico lo lascia la società se me la ripeti se me la ripeti in italiano allora che praticamente quando ti chiedono un calciatore che c'hai facciamo un esempio maradona ok per non citare dei tuoi diciamo il coltello dalla parte del manico ce l'hai tu se maradona c'ha 40 anni e magari inizia a essere messo fuori rosa sei tu che devi cercare a maradona ok un lavoro e quando vai tu in proposta ce l'ha sempre la società il coltello dalla parte del manico tipo c'è hai meno gioco tu no a livello di trattativa ma il mercato lo fanno le richieste dipende anche che richieste al calciatore a me mi è capitato io non è che tutti d'ambrosio tutti che età tutti palmero insigne o anche giocatori che devi spingere scarsi dice no 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 scarsi ringraziando il signore scarsi no però non tanti che vanno spinti quando devi spingere un calciatore ovviamente è un pochino più difficile poter intavolare una trattativa come dico io quando ti chiamano loro tu sai che il giocatore desiderato dal club e quindi tu già vai un po più certo quello ovviamente capita spesso che sono i club che ti chiamano e poi nel calciatore e invece un'altra domanda che leggevo dalla chat perché tante volte anche si parla sai di commissioni da parte dei procuratori ha chiesto una commissione di 70 milioni perché uno pensa che magari sai no ci fanno queste cifre qua nel mercato perché uno pensa io non l'ho mai sentito no adesso non voglio almeno io ok su magari dico su altri colleghi però al di là del collego del diciamo dell'economico uno pensa che uno va da una società e dice vabbè firmiamo mentre soprattutto quando si parla di grandi calciatori le trattative durano n settimane n mesi quanto c'è che quante carte ci sono c'è cosa c'è da intavolare perché immagino che quella commissione lì corrisponda a un lavoro che magari te c'hai un team dietro che fa carte notai c'è una serie di carri la società è composta da nove persone che si occupano esclusivamente del calcio due avvocati che fanno la parte burocratica due persone che fanno la parte bancaria due persone scusa tre persone che curano l'immagine e comunque c'è ci deve essere tuo calciatore devi cercare di dargli deve essere coperto al cento per cento su qualsiasi possa essere la sua problematica però ti dico col tuo amico danilo d'ambrosio che è stato il mio primo calciatore importante è stato quello che veramente amato fiducia quando io lavoravo ancora per la coca cola quando lui grande danilo uno di noi tra la persona da verce di d'ambrosio è straordinario e la sua trattativa è durata un'eternità lui era in scadenza di contratto col torino ti acconto un aneddoto che nessuno sa una cosa che nessuno sa tanto passati 10 anni non in prescrizione siamo tra di noi quando vince quando quando siamo stati in un momento buio lui al torino giocava poco è arrivato ventura lo faceva giocare poco noi decidemmo di chiedere la cessione di andar via e dal torino ci fu detto che loro non volevano dallo mio titolo definitivo ma volevano prestarlo noi accettammo però gli diciamo guarda noi andiamo via in prestito però rifaccio il contratto e allora direttore sportivo ci disse guarda il contratto adesso non te lo posso fare per vari motivi il contratto adesso non te lo posso fare lui disse vabbè allora faccio una cosa io non vado via arresto al torino faccio il fenomeno gioco vado in nazionale e poi vado di scadenza lui ha fatto tutto quello che si era prestito tanto da capitano del torino l'ha fatta questa cosa qua d'ambrosio da capitano del torino diventato dopo perché quando noi andiamo a parlare per il nuovo contrattuale non lo volevo neanche far giocare cioè non giocavo ma questa cosa qua è una cosa della quale ha influito te e gli hai detto cioè ci sono delle no io ti faccio esempio io ho un personal che mi gestisce no e tutte le volte prima di prendere qualsiasi decisione come lo faccio con la mia fidanzata lo faccio anche con lui no guarda io vedo che tu stai fumando quindi lo faccio anch'io no vorrei capire che non ho capito cos'hai tu che ti gestisce io un personal un personal Claudio 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 ah ok un personal shopper un personal shopper un personal shopper c'ho anche quello però diciamo per altri vizi vince non entriamo guarda Andrea non è non è così quando un giocatore arriva a certi livelli come lo può essere Insigne come lo può essere D'Ambrosio come lo può essere Contini come lo può essere tanti giocatori hanno un cervello pensante non pensate che siano stupidi i calciatori Danilo ad esempio è stato quello che ha detto va bene allora io non rinnoverò il contratto perché voi non vuoi rinnovarmi il contratto allora significa che poi avrete voi da me a piangere per rinnovare il contratto io non lo rinnoverò così è andata è andata in campo ha fatto benissimo e poi è andato all'Inter scusami Vincenzo ehm non che abbia nulla contro D'Ambrosio tra l'altro pensa io sono milaniste uno dei giocatori che invito di più all'Inter perché è uno che sa interpretare alla perfezione il ruolo del panchinaro adesso secondo me nell'Inter cioè che quello che quando viene chiamato in causa gioca ancora meglio dei titolari quasi il sesto uomo diciamo no si sta in panchina perché sa che deve stare in panchina a volte quindi secondo me perfetto però in questo caso qui cioè è vero che dal tuo punto di vista del tuo lavoro queste manna dal cielo per carità però secondo te in generale non vengo a toccare te vengo a toccare il modo in cui ragionano i calciatori nel 2021 non è tra virgolette sbagliato prendersela oppure addirittura giocare il triplo meglio con lo scopo di avere il contratto migliore ehm cioè forse sono troppo romantico come vi come no no sei dicendo una cosa totalmente inesatta eh corregimi allora ti spiego anche per chi hai capito con chi faccio il programma Vincenzo io grazie 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 almeno so parlare in italiano ti spiego la motivazione tutti quanti noi se tu vai a chiedere a Usain Bolt all'inizio quanto faceva 600 metri sicuramente non faceva il record mondiale che ha fatto dopo certo quindi tutti quanti io non ero lo stesso procuratore che sono adesso 16 anni fa tutti quanti noi proviamo a migliorarci e cerchiamo di farlo nel modo migliore per raggiungere il nostro obiettivo se l'obiettivo di un calciatore in quel momento è avere rinnovo contrattuale è normale che io mi metto ancora di più in evidenza per cercare di avere un nuovo contrattuale se il mio obiettivo è quello di vincere la prossima partita tutta la settimana mi farò il culo perché la prossima partita devo vincerla io ti dico non è detto non è vero che un calciatore allora si impegna di più se non è così adesso tu penso stai stia vedendo come sta giocando Lorenzo ed è scadenza di contratto sì sì lì lì anche aspetta non è che sta pensando è scadenza di contratto no lì sta giocando beh vince lo scorso D'Ambrosio era scadenza di contratto eppure giocava come se avesse altri 10 anni di contratto quando arriva a certi livelli non pensi a queste cose ecco io no vai vai Ander no che io su Danilo cioè so quanto adesso non te la metti in bocca a te ma non me la metti in bocca a io cioè Danilo so quanto bene vuole all'Inter e penso che lo stesso vada anche per Lorenzo cioè è proprio una roba vince che va oltre in questo caso specifico guarda ti dico una cosa Danilo negli 8 anni di Inter avrebbe potuto lasciare l'Inter 4-5 volte in maniera molto seria e anche quando era scadenza di contratto con l'Inter noi abbiamo avuto delle offerte anche importanti anche da club molto importanti ma lui non l'ha mai preso in considerazione non mi ha mai fatto fare il mio lavoro ha sempre detto io preferirei restare all'Inter che sono di casa all'Inter sono tanti anni che ci sono mi trovo benissimo so cosa posso rappresentare per loro anche nello spogliatoio e quindi vorrei rimanere qua c'è sempre stato da parte della società la volontà di trattenerlo abbiamo fatto comunque 3 o 4 di 9 contrattuali con Danilo quindi quindi vince implicitamente ci stai dicendo che fondamentalmente tu fai il tuo lavoro come gli altri procuratori ma chi decide nei fatti è il giocatore cioè tu non fai altro che metterlo nelle condizioni migliori no? per lui poi non ti ho detto questo io ti dico un buon procuratore secondo me lascia sempre il libero arbitro al proprio calciatore poi è normale che con i giovani spesso io dico guarda per me tu devi andare lì ma quando lo fai con un giovane è diverso quando lo fai con un campione come possono essere loro è normale che tu gli porti 3, 4, 5 alternative e poi devono essere loro a decidere quali sono la bravura nostra deve essere portare le alternative ok Manfred se vuoi fargli una domanda dopo ne leggo qualcuna della chat ma prima vorrei fare quella che faccio sempre vince te la faccio così a bomba si ce la riesci a far avere a uno dei sub nostri che magari decidiamo insieme a fine live una maglietta di insignia quello più che volentieri olè 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 autografata ovviamente grazie vince grazie vince grazie vince no perché secondo me alla nostra chat ti interessa più del rinnovo sta roba qua ma meglio ne mando anche due va bene vai detto vai detto vai bene chiedono anche quella di D'Ambrosio adesso vediamo adesso vediamo adesso vediamo in primavera noi li rompiamo vai Manfred se avete qualche domanda ragazzi mettetela in chat interessante che la leggo sì in realtà una domanda che ho letto molto in chat è una che più o meno mi fa credo più o meno di saperlo ma vorrei avere un chiarimento allora il lavoro del procuratore rispetto a tanti altri lavori è un lavoro che non ha se vogliamo un iter predefinito cioè se io voglio fare il dottore mi lauro in medicina faccio non so praticantato per degli anni presso uno studio eccetera poi divento un dottore bravo eccetera chi vuol fare il procuratore hanno degli iter diversi nel tuo caso quando è stato il momento che hai scelto di fare il procuratore che hai detto questo è quello che so fare meglio allora intanto non è proprio così perché anche noi abbiamo dovuto studiare io dico quando abbiamo fatto quando ho fatto l'esame eravamo in 768 a fare l'esame siamo stati 14 o 15 promossi no no scusami se no sembra che ho detto una cosa come a dire tu non tu no non volevo dire questi no no l'hai detto l'hai detto l'hai detto fallo rispondere maleducato no allora ti spiego sì io lavoravo ho fatto tanti lavori però la mia grande passione era sempre stata il calcio e lavoravo nella Coca-Cola ero un rappresentante della Coca-Cola lavoravo come market developer per della Coca-Cola però già facevo il procuratore e andavo bazzicavo sui campi in Toscana perché io vivi in Toscana andavo a vedere i giocatori andavo e ebbi la fortuna di andare di fronte casa mia all'ammari c'era un amichevole Lucchese Juve Stabbia andai a vedere questa partita Lucchese Juve Stabbia dove io nella Lucchese avevo dei giocatori e vedi D'Ambrosio che come andava come va adesso andava dieci anni fa quindi parliamo più di dieci anni fa aveva avuto un anno poi dopo andava in azione del 21 e andava avanti e indietro come un treno a fine partita lo fermai e gli dissi guarda io sono un procuratore vorrei fare una chiacchietta con te non mi cago proprio mi disse guarda io che procuratore ho smesso anzi forse faccio un'altra andata di quest'abbia poi smetto proprio perché mi sono rotto le palle e io rimasi un attimo così e gli dissi guarda dammi sei mesi di tempo mi filmi una procura di sei mesi se io in sei mesi non ti porto in serie B eccolo qua mamma che regia brava mamma mia bravo bravo regista e gli dissi poi mi dici chi è regista che io ho l'account privato qualcuno che conosce e gli dissi dammi sei mesi di tempo se io in sei mesi non riesco a portarti almeno una squadra di serie B significa che tu mi hai ragione questo è incredibile dice io dopo due mesi di portare il Vicenza in B e lei era la Juve Stabia in C2 che erano appena processi la Juve Stabia chiese uno sfracello di soldi e l'operazione non si riuscì più a fare allora lui però vide questa mia buona fede mi chiamò mi strappò quella procura e mi firmò uno ai due anni e se io ho visto quello che tu hai fatto per me ora non sono andato lì per colpa della Juve Stabia non per colpa tua per me va bene così mi fermò una di due anni e a gennaio io mi ricordo mandai un DVD dieci anni fa ancora non c'era queste cose quindi fece un DVD lo mandai a Gianluca Petrachi e Gianluca mi disse senti bimbo a me ste cose non mi piacciono scusi mi hai mandato il DVD accelerato guarda che me ne sono accorto io non sapevo neanche fare un DVD che mi aveva accelerato che andava come un treno e io dissi guardi il rettore venga qui lo venga a vedere e poi mi dice se lo manda l'accelerato o meno ma io le garantisco che non è così lui mandò prima una sola persona a farlo vedere poi venne a vedere lui per Stabia a Manfredonia dove da un'altra cosa fece doppietta a terzino destro quindi il culo proprio enorme il culo però ce l'ha andato a cercare dai sì no no fece doppietta e passò al Torino e lì passò al Torino e lì dissi alla mia attuale moglie che però era la mia fidanzata che nel frattempo era rimasta incinta e dissi guarda io stavo pensando di licenziarmi dalla Coca Cola quindi posto fisso tutte le mie stemenate alla checco alla checco alla checco sì il posto fisso e la mia attuale moglie mi disse vai fallo se tu credi che questo sia il tuo lavoro fallo è fondamentale comunque tante volte e se vai vai non ti preoccupare fallo e noi abbiamo all'inizio è andata bene parecchio la cinghia e poi dopo sì sì dopo ci è andata benissimo vi racconto una cosa di D'Ambrosio che voi penso che tu lo conosci bene Andrea quando si fece l'operazione di D'Ambrosio quando gli scadono è scadenza di contratto era un nazionale del 21 lo volevano tutti e mi chiamò adesso la Juventus la Roma il Tottenham il Milan l'Inter il Napoli mi chiamarono tutti che lo volevano perché scadenza di contratto un giocatore di 22 anni lo prendono forte terzino che non ce ne sta lui lo chiamarono tutti tutti i procuratori i più grandi io ero un pesciolino loro erano degli squali D'Ambrosio ha uno molto importante e disse guardi mi dispiace che l'hai venuto fino a Torino ma io ho il mio procuratore e non lo cambio quindi grazie mille per essere venuto ma io non ho nessuna intenzione di cambiarlo quando facevamo l'operazione con l'Inter Marco Branca che ovviamente non mi conosceva non sapeva niente chi fosse insieme per ausilio mi disse ma tu da dove sei uscito fuori e io gli raccontavo un po' la mia storia chiudemmo l'operazione e il giorno della chiusura l'operazione lui chiamò D'Ambrosio e gli disse guarda l'accordo con te è fatto il tuo contratto è a posto c'è solo un problema io ero accanto a lui quindi era una battuta il tuo purgatore sta rompendo troppo le palle con la commissione sua e sta chiedendo troppi soldi e quindi se continua lo mandiamo a fanculo ma non era vero ripeto stavo accanto a lui e Danilo che non lo sapeva disse guardi direttore adesso a me 100 mila euro in più o 100 mila euro in meno non mi cambiano la vita perché me l'avete già cambiata con questo contratto se non cambia la vita anche al mio procuratore vuol dire che non possiamo fare niente lui rimase in pietriche mamma mia questo per farvi capire che poi parliamo questo è D'Ambrosio e lui mi disse e lui mi disse disse guarda in realtà io ce l'ho accanto ammetto procuratore non è vero che sta rompendo le palle per il contratto per la commissione ma tu mi hai dato una risposta che io sto capendo che ho fatto il colpo giusto sto prendendo un grande uomo non sto prendendo solamente un grande giocatore ma anche un grande uomo e lui per me no ma anche perché chiedo anche alla chat chi è che farebbe una roba del genere perché poi un conto sai vince a parole per lì devi farlo con i fatti Andrea ti posso garantire nei miei 16 anni vincolate ne ho preso parecchie di gente che io ho salvato la vita e mi sono ritrovato all'improvviso qua ce n'è uno non ti faccio il nome ma giusto per non fare non voglio creare problemi ma ce ne fu uno che io portai da una squadra molto mediocre a un top club ma grande enorme e quando andai in questo top club dopo due mesi che lui stava là mi chiamo il papà e mi disse guarda dovresti venire qui perché dobbiamo parlare io andai a parlarne e gli dissi dimmi tutto no dopo deciso di lasciarti che è successo ma come guadagnavi mille lire ne prendi 10.000 adesso sei in top club che cosa ho fatto io ero incredulo no ma non abbiamo più bisogno di ormai siamo qui non ci serve più proprio così micchia ah non ti vero proprio no ma io ne ho vissuti sul mio su altre cose guarda mia io rimasi talmente male che a un certo punto disse ma secondo me ho sbagliato io qualcosa secondo me c'è qualcosa che non va io mi sono sposato il 19 di dicembre e il 21 dicembre mi arriva una carta di questo dell'avvocato di questo signore il quale mi aveva denunciato perché io l'avevo portato in un club che non era alla sua altezza e parliamo ah quindi proprio curnuta e mazziata praticamente sì però la sfortuna è stata che quando andammo a fare la causa e il giudice disse scusi ma lui adesso dove gioca noi dicevamo non vada la squadra e lui disse e allora dove doveva portarla gioca sulla luna e quindi il giudice mi dà ragione ha dovuto pagare delle cose lui al mio avvocato anche al tribunale però guarda che succedono queste cose non pensare che tutti quanti siano ce ne sono alcuni che non ragionano neanche si buttano per tutto per qualsiasi cosa poi il nostro mondo è un mondo molto sporco non pensare che sia vabbè vincenzo secondo me oltre che sporco spesso e non sempre perché non voglio fare ma spesso al al calciatore e la sua famiglia è una famiglia un po' ignorantella quindi questo è quello che mi hai detto tu una cosa guarda la maggior parte la maggior parte delle volte sì e questo è la verità però ti dico anche che ci sono tante persone che invece sono persone per bene però ti ripeto a me è successo in tanti anni di carriera in 16 anni di carriera che di prendere con gente che tu veramente dici ma come io che questa persona io sono fatto del bene che li trovi sì però sai quello mi ha dato questo mi ha dato quell'altro quindi io ti devo lasciare una roba così allora vincenzo aspetta un attimo se fai domande sul mercato ti butto fuori eh asso ciao ma che ancora qua asso basta a Augusto Ciscione di noi siamo bianco celesti quindi diciamo che è extra i tuoi però dopo andiamo sulla nazionale vince allora intanto lo facevo entrare ho letto una marea di domande Augusto mi raccomando non faccia il giornalaio anche qua siamo a casa nostra mi raccomando lo sta già facendo lo sta già facendo niente allora vince ti volevo chiedere sta roba qua che leggevo prima in chat si fa un gran parlare soprattutto sai non so se hai letto del caso De Bruyne che diciamo si è fermato come da solo e dice dei procuratori te soprattutto diciamo che ha sostituito i match analyst al procuratore ma non è vero neanche questo lui ha ancora rappresentato un'agenzia e insieme alla sua agenzia ha fatto una cosa secondo me molto intelligente ha fatto capire alla squadra perché lui stava chiedendo questi soldi qual era la sua influenza in zona goal la sua influenza recupero palloni la sua influenza nei passaggi filtranti ma non l'ha fatto da solo l'ha fatto comunque insieme alla sua agenzia ma secondo me ha fatto una cosa molto intelligente cioè spesso e volentieri quando tu fai una richiesta di contratto importante devi anche comunque doverla motivare e lui l'ha motivata secondo me in maniera egregia ha fatto vedere una volta un nostro mio caro amico non so se voi conoscete si chiama Xardella ma è scusami lavora in radio lui no Xardella io lo chiamo il mago di Instagram lui è uno che cura un po' le pagine di Florenzi di tanti calciatori ok le pagine l'ho sentito e una volta Max una volta mi fece mettere in contatto con un'agenzia del genere e mi dirò dei dati su un calciatore dei dati che davano l'importanza del calciatore in quella squadra io sinceramente li ho usati li ho usati dal club mi hai servito una cosa che ti volevo chiedere in caso mandami a cagare e Insigne non aveva i social mi ricordo io o comunque non ce li ha avuti non li seguiva tanto adesso non è che sia diventato un influencer però sicuramente a oggi è più attivo rispetto a 4-5 anni fa è stata una scelta perché secondo te appunto a oggi vediamo con Cristiano Ronaldo aumenta anche il peso specifico del calciatore questa? cioè è stata una scelta che ce ne avete parlato insieme? No guarda io Lorenzo lo gestisco da un anno e mezzo roba del genere quindi non ho dato tantissimo tempo no credo l'inizio è stata aperta perché fu una richiesta più del Napoli comunque per le sponsorizzazioni e altre cose e poi dopo lui comunque un po' ci ha preso gusto giustamente a mettere qualche foto della sua squadra della sua famiglia in realtà solo quello fa mettere foto della partita sì non è uno che non è molto social e ovviamente Maradona è veramente tutto casecchiesa credetemi anche troppo secondo me è uno proprio è molto geloso ma come? ma come anche troppo vince? guardate questa è un'altra cosa è un'altra cosa che non è così vera certo no? è geloso come lo sono io di mia moglie beh certo non c'è no hanno fatto hanno fatto vedere qualcosa alle linee immagino che tu stia parlando di quello e io mia moglie io ero serata in galera lui è riuscito ero andato in galera io sono andato in galera ma però diciamo anche la moglie ha aperto Instagram da poco ecco Augusto non faccia il cazzo per favore ma no guarda non guarda Augusto non pensare che sia stato una richiesta no no ma io non sto dicendo quella forse ha una bella moglie e tutti quanti sarebbero gelosi guarda spero non mi ascolti ma credo che dei due della coppia la più gelosa sia Jelly che è una donna molto intelligente però ti dico dobbiamo organizzare lo scherzo al contrario vince dobbiamo organizzare ma poi che domanda è Asso per favore dai dai io ho fatto una considerazione che è diversa no no ci chiedono tra l'altro se è vero che è molto fissato con l'alimentazione io non vado più a mangiare a casa sua ma in serio no scherzo però vince non ti fai così serio è un trauma la stai vivendo no no ma è la verità io spesso tu devi sapere che il suo piatto preferito il suo massimo orgasmo alimentare è l'insalata con il tonne il mais e lo sgatti ma a Napoli poi poi a Napoli ma lui non sa cosa significa adesso siamo stati in suo cio c'è una pizzeria bellissima dove si mangia una pizza io non vi dico neanche cosa mi sono mangiato rispetto al mio personal trainer che forse ci sta ascoltando ma lui ha mangiato la burger con le verdure vediate io ho detto ma come cazzo fai adesso a mangiarti tutti quanti qui con la pizza fritta roba zero lui compra i dolci li porta a casa li guarda lui basta che li guarda poi ti chiede com'è buono sì bene non ci credo non ci credo no io non l'ho mai visto con acqua cola in mano ma poi immagino che gli regaleranno tante cose perché comunque quando vai ma è una cosa positiva speriamo non ci ascoltino tutti ma è una cosa positiva perché poi mai da me quindi sono contento secondo me l'alimentazione è fondamentale c'è tanti problemi derivano dall'alimentazione anche l'infortunio a guardare D'Ambrosio quando si toglie la maglia sembrerebbe anche lui però non lo so è magari genetica no lascia stare no no lui è genetica ma è anche uno abbastanza lui c'ha solo una cosa che non riesce a fare a meno lui può mangiare pollo e insalata dieci giorni però la sera un pezzo di cioccolato devi mangiarlo per forza non c'è niente da fare allora grazie grazie al nostro balcone grazie al nostro balcone che ci ha regalato altre dieci sub grazie mille Vince se dopo ne vuoi regalare qualcuno anche te allora Vince ma tu la vedi la chat la vedi la chat te? no io non vedo la chat non saprei neanche dove aprire aspetta forse qua eh io però dopo non vedo più voi allora no 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 era per dirti che dovresti trovare qualcuno ok a parte che ti ve lo chiedo una cosa secondo te a proposito della maglia d'insigno di D'Ambrosio Lorenzo quante maglie dà all'anno? no ragazzi vi prego posso chiedermelo non entriamo in questa è tutto più complicato quest'anno no vabbè allora facciamo no dico un giocatore in generale quante maglie è costretto a regalare? io ti dico che ne avrò prese in un anno e mezzo almeno tre quattrocento almeno io solo tu solo io ne ho preso almeno tre quattrocento lui non immagino neanche quattro regali non lo so ma non immagino neanche quattro regali perché comunque qui è considerato un po' sai è un napoletano quindi tutte queste cose secondo te un 20-30 maglietta al giorno le dà? no no non penso anche perché guarda che costano un botto le magliette del Napoli no no ma al di là del Napoli era proprio in generale cioè perché io conoscendo Danilo Ranocchi altri calciatori come magari a noi chiedi un selfie allora voglio darmi una maglietta per favore e immagino come la vivono no guarda aspetta che al Napoli ti dici voglio darmi una maglietta per favore voglio che tu mi darai la maglietta capito è una posizione è una cosa per dire io sono stato qui dal salumeria io vivo a Napoli a Via Posilio e c'è la salumeria sotto da me che però a me non mi ha mai visto io a casa ci sono veramente finora come si chiama la salumeria? non lo possiamo dire non credo no diciamo lo salutiamo magari io lo chiamo Roberto del Conad allora salutiamo il Conad di Roberto vado sono andato adesso per la prima volta a prendere una cosa in realtà passavo con la macchia da comprare le sigarette mi sono fermato a prendere i cracker vado a prendo questi metto in fila e dico guardi di 2,50 euro dice ma non ce l'ha 2,50 euro io non ce li ho dice signora se vuole me ne segni io sono pisacane ma togno si è girato il marito con una rabbia una roba ma neanche buona si ma stu rinnova camma fa no guardi ho detto guardi segni pure a mia moglie sopra io devo andare sto prendendo dei cracker con un po' di prosciutto per favore guardi non mi mette in queste condizioni mamma mia vince allora facciamo sta roba qua sì Balcone te la meriti tra l'altro grazie dell'abbonamento anche al Balcone grazie mille anche a Dam e a Davide Furbo che si è abbonato per il quarto mese scegliamo a chi regalare la maglia sì scegliamo a chi regalare la maglia di Insigne che ha detto guarda posso chiedervi una cosa sì tanto ormai siamo entrato in confidenza io sono molto vicino a un ospedale pediatrico che è qui a Napoli proprio vicino a casa mia fra altre cose che è il Posili Ponsanto Buono sì non so se voi è il più famoso di Napoli il pediatrico più famoso di Napoli sì per i bambini sì è quello più è quello più importante ahimè visitato ecco diciamo come si può dire ecco da questo punto di vista è quello più importante sì 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 purtroppo sì purtroppo sì e facciamo così in qualsiasi ospedale pediatrico anche una cifra che possa essere un euro chi fa la denazione più importante io gli regalo due magliette una di Lorenzo Insigne è un altro di Lorenzo Ambrosio però dovete dimostrarlo poi lo dovete dimostrare ad Andrea Andrea mi dirà chi l'ha fatto chi ce l'ha chi ce l'ha più grosso il bonifico me lo fate vedere e io vi mando una maglietta di Ambrosio una maglietta di di insegnato che l'ha fatta se per voi va bene allora guarda facciamo due donazioni così è meglio allora guarda facciamo così facciamo un primo e secondo posto esatto facciamo così facciamo così visto che siamo in live e avete già donato a noi facciamo che le sub di oggi vengono le mandiamo noi vince noi siamo sicuri anche che ci vanno ok le sub che sono state fatte oggi le tramutiamo ce ne occupiamo noi ci occupiamo noi di mandarle ai due che diciamo hanno donato di più per oggi grazie a te vince di essere venuto grazie mille ragazzi grandissimo ci aggiorniamo in bocca al lupo per il lavoro vince grazie mille grazie anche a voi ciao ragazzi ciao Vincenzo ciao ciao ciao